Buonasera a tutti, allora i nostri mercoledì scienza vanno eccezionalmente in onda oggi che è martedì perché oggi è una giornata speciale, oggi è l'8 giugno e si festeggia l'Ocean Day, cioè il giorno la giornata dell'oceano. Pertanto la nostra conferenza sarà proprio sull'oceano e precisamente Tone di Natale ci parlerà dell'oceano essenziale per la vita del nostro pianeta. Vi dico qualche parola sul nostro relatore che è segretario e componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Fondazione Aquario di Genova ONUS, è consigliere scientifico del gruppo Costa Edutainment di Genova e inoltre è membro dal 2019 come esperto per l'ambiente marino presso l'ONU, è consulente esperto della Commissione Europea DigiMare e inoltre è il fondatore dal 2006 del marchio etico e di sostenibilità EcoCrest ed ispettore per lo stesso, membro del Comitato Scientifico delle WWF Italia, della Lega Ambiente, dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacque del Comitato Scientifico della Fondazione Cetacea di Riccione. Fra i numerosissimi incarichi precedenti mi piace ricordare che è il co-promottore del World Ocean Day, approvato poi dall'Assemblea Generale dell'ONU. È uno specialista di grandi pelagici, tonnare, mammiferi marini, pesca sostenibile, uso sostenibile delle risorse ed etica scientifica e ha un curriculum in sistematica di specie marine, un tutela degli ecosistemi acquatici, delle aree protette ed uso sostenibile delle risorse acquatiche. Ha progettato poi diverse aree protette marine in Italia e all'estero, poi attuate da vari governi. Ha ben più di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche e anche su libri scientifici ed è stato docente in vari master e corsi di laurea come all'Università Bocconi, all'Università di Heidelberg, di Saragozza, all'Università di Santiago di Compostela, di Barcellona e di Bologna. Ha rappresentato varie volte come esperto il governo italiano o la Commissione Europea in riunioni internazionali. Nella sua esperienza lavorativa include, ci sono varie organizzazioni, fra cui oltre l'ONU che abbiamo già citato, anche FAO, UNESCO, Nato. Nel dicembre 2016 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana dell'onoreficenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia per gli elevati meriti scientifici all'estero e per aver diffuso la cultura scientifica italiana. Ha ricevuto poi altri riconoscimenti, tra cui il Tridente d'Oro, che è il massimo riconoscimento internazionale alla carriera per gli studi e i lavori che riguardano la biologia marina e subacquea. Infine mi piace ricordare che ha collaborato e ha realizzato numerosi documentari scientifici naturalistici, ha partecipato a varie trasmissioni televisive sia in Italia per la RAI e Mediaset sia all'estero per la BBC e ha partecipato come esperto a numerose trasmissioni televisive come Linea Blu, il Maurizio Costanzo Show, l'Arca di Noè, il Pianeta delle Meraviglie. Allora vi lascio alla sua interessante conferenza, questa è l'ultima conferenza prima dell'estate del nostro ciclo Mare Scienza, riprenderemo dopo l'estate, precisamente ad ottobre, durante il Festival della Scienza. Per ora vi auguro buon ascolto e buona visione e soprattutto una buona estate, ce lo meritiamo tutti. Arrivederci. Salve a tutti, questa è una giornata molto importante per noi, forse la giornata più importante dell'anno perché è la giornata dedicata all'oceano ed è per noi un obiettivo principale quello di salvaguardare gli oceani. Ora tenterò di raccontarvi un po' qual è la mia visione degli oceani, dell'oceano, perché in effetti è un unico oceano mondiale, per tentare di condividere con voi tutta una serie di fatti, di conoscenze, di problematiche, di fatti positivi che possono aiutarci a celebrare meglio questa giornata. Grazie a tutti, spero che vi piaccia questa presentazione e che vi faccia riflettere. L'oceano è una parte essenziale della vita del nostro pianeta. Il fatto che gli oceani ricoprano la gran parte della superficie della Terra è stata per il primo astronauta Yuri Gagarin nel 1961, cioè il primo uomo a vedere la Terra dall'alto una scoperta fantastica. Infatti durante il brevissimo volo che fece la sua prima esclamazione fu la Terra è blu che meraviglia e bellissima. E questo è un problema in effetti di base perché chiamiamo Terra un pianeta che è coperto per oltre il 71% d'acqua oceanica. È una visione veramente antropocentrica del pianeta e lo dice Arthur Clarke, che era colui che fece odissea nello spazio, 2001 odissea nello spazio, dicendo che fosse inappropriato veramente chiamare questo pianeta Terra perché è molto chiaramente un pianeta oceano. E tra l'altro è un pianeta oceano, non al plurale, perché le acque oceaniche sono tutte interconnesse ed è una cosa di cui le persone non si rendono facilmente conto. Tutte le acque oceaniche sono interconnesse, dai poli alle parti tropicali. Le cose che noi facciamo è quello di dare nomi diversi alle diverse parti dell'oceano, in modo tale da poterle distinguere geograficamente. Però di fatto c'è un unico oceano mondiale e questa è la parte che regola tutta la vita sul pianeta. L'oceanografia lo dimostra molto chiaramente. Qua vedete una diapositiva che ci fa vedere le maggiori correnti termiche del pianeta, perché esse percorrono il pianeta senza confini, regolando da sempre l'intero clima. Ogni corrente muove masse d'acqua imponenti, con densità e temperature diverse da quelle circostanti, che hanno effetti immediati sia sul clima del pianeta, ma anche sulla nostra vita, sull'atmosfera, per via dell'evaporazione delle acque e delle temperature. E questo regola moltissimo tutta l'atmosfera nelle varie parti. Alcune grandi correnti sono molto note a tutti, come ad esempio la corrente del Golfo, che regola il clima in tutta la parte dell'Atlantico, ma anche in una parte importante dell'Europa. Soprattutto regola il clima nella parte nord dell'Atlantico, rendendolo meno freddo e tra l'altro condiziona anche la vita di tantissime specie e gli abitanti delle coste atlantiche del nord. Il flusso attualmente sta rallentando. Ci sono alcune idee sul perché questo avvenga, però sicuramente è un fatto che avrà delle conseguenze abbastanza imponenti. Dall'altra parte, nel Pacifico, ci sono dei fenomeni ancora più complessi. Sono il nino e la nigna, che regolano il clima e tutti i fattori oceanografici in quasi tutta la parte centrale dell'Oceano Pacifico, che hanno un impatto fortissimo non solo sul clima, ma anche sui fenomeni meteorologici e sulle risorse oceaniche. Quando c'è il nino immediatamente si hanno catture molto grandi di piccoli pelagici, cioè acciughe, sardine, nella parte dell'America meridionale. Questo perché si generano delle correnti di upwelling che poi hanno un effetto importante sulle catene alimentari di quella parte dell'oceano. Il cambio climatico è un fattore ulteriore e siamo in effetti di fronte ad un fenomeno molto veloce, accelerato a cascata da tutte le azioni dell'uomo. Gli scenari possibili sono tanti, però le conseguenze sono già purtroppo chiare. Perché alcuni effetti li vediamo subito. Alcuni effetti sono quelli dell'estremizzazione di alcuni fenomeni, grandi tempeste, grandi uragani, piogge pesantissime anche in Europa. Fenomeni che avevano dei tempi di ritorno molto lunghi e che invece ora stanno accorciando i tempi di ritorno in una maniera immediatamente distinguibile. Il riscaldamento globale è incrementato ovviamente anche dalle attività umane, che hanno un impatto diretto sull'oceano e sugli organismi che vi abitano. Ad esempio, sulle barriere coralline si sono avuti prima fenomeni di sbiancamento favoriti dal cambio climatico perché le temperature sono salite tanto. Anche nelle parti artiche ed antartiche i ghiacci hanno iniziato a sciogliersi in una maniera piuttosto pesante. Per alcuni ci sono anche degli aspetti positivi. Per esempio, le compagnie di navigazione ora stanno iniziando ad utilizzare il passaggio al nord-ovest che si è riaperto, che mette in comunicazione più rapida l'Atlantico con il Pacifico, ma nasconde anche una situazione gravissima che è quella dello scioglimento dei ghiacci artici, che non solo crea un problema ambientale, ma crea anche un problema alle correnti perché l'acqua diventa più dolce, quindi la salinità diminuisce, diminuisce la densità e questo crea un'alterazione delle grandi correnti atlantiche. Il cambiamento climatico inoltre fa innalzare il livello del mare. Questo potrebbe sembrare solo un fatto fisico per quelle piccole isole che si trovano soprattutto nelle parti tropicali del pianeta, dove il mare inizia a sommergere progressivamente le isole, ma non è solo questo. Ci sono anche dei problemi per le falde acquifere, perché quando si innalza il livello del mare, a quel punto l'acqua marina inizia a penetrare nelle falde e molte comunità, come per esempio nelle isole Tonga, iniziano ad avere fenomeni di acqua salmastra all'interno delle loro falde. E questo pone dei problemi enormi alle comunità locali che devono spostare gli insediamenti quando è possibile, alcune diventano resilienti tentando di recuperare le parti più alte delle isole, però devono trovare un'altra volta delle nuove falde per avere l'acqua potabile. E' chiaro, chi è più rapido ad adattarsi è più favorito, ma non sempre si riesce a fare. Noi tra l'altro non ci rendiamo conto che l'oceano, con tutti i fenomeni meteorologici collegati, sono il fattore essenziale per permettere l'esistenza dell'acqua dolce sulla Terra. Qua c'è una mappa delle acque dolci esistenti nel pianeta, consentendo così la vita sulla parte terrestre, sia vegetale che animale, compresa la nostra ovviamente. Noi siamo degli animali. E se il pianeta non avesse l'oceano, il ciclo dell'acqua non esisterebbe e non esisteremmo neanche noi e neanche tantissime forme di vita, la gran parte. Però conosciamo pochissimo l'oceano. Questa è una mappa possibilmente non aggiornatissima dai fondali dell'oceano del mondo. Sono stati in gran parte mappati per grandi linee, significa bassa risoluzione, escluse pochissime aree di estremo interesse, laddove ci sono dei giacimenti o dove ci sono dei fenomeni sismici da monitorare, oppure ci sono dei fenomeni commerciali, di interesse commerciale o strategici. Ma conosciamo molto poco dei fondali dell'oceano, soprattutto da un punto di vista della vita che si trova in quelle aree. Infatti viene stimato che solo l'8% delle forme di vita degli oceani sia conosciuto. È veramente poco. Semplicemente significa che non sappiamo nulla del 92% delle forme di vita che abitano gli oceani. E questo è triste per una comunità di umani che vive in un pianeta che non conosce. Tra l'altro noi non sappiamo neanche quante specie vivono nel pianeta, ovviamente. È un patrimonio di biodiversità. Ma quando diciamo che non conosciamo il 92% è una stima, è una stima grossolana, proprio perché non sappiamo l'insieme. Conosciamo attualmente circa 274.000 specie, però se ne scoprono praticamente ogni giorno. Tanto per dare un esempio, in una sola roccia profonda, appena esplorata, sono state scoperte ben 297 specie, nuove, sconosciute alla scienza. Quindi si suppone che possano esserci orientativamente intorno a 1.600.000 specie ancora da scoprire, sempre sperando che riusciamo a scoprirle prima di distruggerle, perché siamo molto bravi in quello. La varietà è enorme. Va dalle gigantesche balene azzurre, ai più grandi animali mai comparsi nella storia della Terra, fino ai microscopici batteri e virus. Quindi è un patrimonio di biodiversità veramente ineguagliabile, che tra l'altro noi utilizziamo da sempre come fonte di cibo. Perché sin dalla preistoria, quando l'uomo era cacciatore, pescatore, raccoglitore, abbiamo iniziato a nutrirci di pesci, molluschi, crostacei, da prima in modo semplice. Ora però lo facciamo con tutte le capacità tecnologiche di cui disponiamo e attualmente le statistiche ci dicono che nel 2019 abbiamo pescato circa 178 milioni di tonnellate, senza considerare le catture illegali, che si suppone possano essere tra il 10 e il 14%. Parlando di catture illegali ovviamente non esistono bene i dati. Però in dieci anni le catture sono aumentate del 20% ed è molto chiaro che non possiamo continuare così. Non possiamo continuare così perché le risorse dell'oceano non sono infinite, come anche le risorse della Terra. Dovremmo gestire queste risorse in modo durevole e sostenibile, nel nostro stesso egoistico interesse, ma non facciamo neanche questo per bene. Perché come le gestiamo? Le gestiamo innanzitutto senza conoscerle. Non conosciamo quasi mai le complesse catene alimentari che stanno dietro ogni specie. Quindi le gestiamo in un modo molto approssimato. Perché quando si tira via da una catena un anello o lo si indebolisce troppo, è ovvio che la catena intera ne soffra o si interrompa. Questo è chiaro a chiunque. Poi non consideriamo quasi mai gli effetti che le varie specie soffrono a causa dell'inquinamento dei cambi climatici. E come tutti questi effetti si sommino ai nostri prelievi. Praticamente è come se entrassimo in una stanza buia e dicessimo di capire cosa ci sia dentro quando accendiamo per brevi istanti un fiammifero. È una maniera molto semplicistica di affrontare il fenomeno. Abbiamo anche un approccio abbastanza idiota su come gestire le specie di cui ci nutriamo. I biologi dell'Atlantico del Nord sono sempre stati coloro che hanno sviluppato degli approcci matematici molto sofisticati per la gestione della scienza alieutica. Però in quella vasta area del pianeta si pescano e si utilizzano pochissime specie. Normalmente sui mercati non se ne trovano più di 6 o 7 e quindi loro hanno creato dei sofisticati sistemi di valutazione e gestione che poi sono stati utilizzati in tutto il mondo. Ma dov'è l'idiozia? Che si valuta separatamente ogni singola specie con montagne di calcoli sofisticati, di modelli matematici complessi e così si tenta di gestirla senza considerare tutto quello che ci sta intorno. Ci sono approcci diversi? Sì, e ora stanno iniziando ad utilizzarli anche loro dopo che la FAO ha suggerito per molti anni di utilizzare un approccio ecosistemico. Cioè considerare il contesto nel quale ogni singola specie vive e dal quale dipende. Solo che molto spesso non si riesce ad applicare per mancanza di dati, quindi di conoscenza. E soprattutto non conosciamo ancora molti cicli naturali. Servono quindi ricerca e dati. Perché per valutare un approccio ecosistemico servono molti dati. Per accoglierli servono molta ricerca e specialisti. Ci sono sempre meno specialisti di specie e di pesca, ma crescono esponenzialmente gli specialisti di modelli matematici. E quanto più sofisticati sono, quanti più specialisti troviamo. Per fare ricerca servono i fondi. La FAO da anni suggerisce un metodo per attribuire dei fondi alla ricerca nel settore della pesca, cioè utilizzare almeno il 2% del valore delle risorse alle quali la scienza deve essere applicata. ma gli stati non ci pensano neanche ad utilizzare questo livello di finanziamento. Siamo a livelli bassissimi e i fondi sono per giunta attribuiti molto spesso con criteri molto discutibili. La Commissione europea ha fatto un grande sforzo per tentare di migliorare la situazione e sin dal 2002 ha varato dei programmi che prima si chiamavano data collection regulation e ora data collection framework, dove però i fondi sono condivisi al 50% con gli stati. E dopo 20 anni di sforzi l'approccio è ancora per singole specie, perché non ci sono ancora fondi sufficienti per raccogliere i dati ecosistemici, se non parzialmente. Quindi la gestione è molto spesso una specie di lotteria, però non si può sempre sperare nella fortuna. Anche perché i risultati li vediamo. Attualmente la FAO ritiene che oltre il 30% degli stock pescati nell'oceano siano sovrapescati, quindi oltre i limiti di sostenibilità. Nel mare Mediterraneo non siamo messi molto bene, perché utilizziamo circa 180 specie diverse tra pesci, crostacei e molluschi, però abbiamo i dati appena su 37 specie e di queste 37 specie abbiamo dati su 135 stock. Lo stock è un'unità di gestione, le unità di gestione sono tantissime di più solo su queste 37 specie, per cui abbiamo una conoscenza limitata in numero di specie e una conoscenza molto limitata in termini di stock. Di questi 55 sono in ottime condizioni, cioè circa il 41%. 17 stock, quindi quasi il 13%, hanno condizioni con problemi di sovrappesca. Su 11 stock ci sono valutazioni molto contrastanti e i pareri comunque di tutte queste valutazioni non sono sempre concordi tra gli scienziati e questo crea ulteriori complicazioni alla gestione. Poi ultimamente, negli ultimi anni, si parla sempre più di sostenibilità. È un ventennio che ne parliamo ed è anche un obiettivo nella gestione delle risorse. Ovviamente la sostenibilità diviene molto più complessa quando si tratta di attività polispecifiche in termini di specie e di attrezzi. Negli ultimi decenni è diventata soprattutto una parola di moda. Non ci sono aziende che non vantino di essere sostenibili, ma tante non lo sono per noi. La sostenibilità e la durabilità delle risorse nel tempo sono elementi seri e veramente indispensabili per una gestione corretta. Non ci vogliono dati, serietà e complessità di approccio e di gestione politica, perché la sostenibilità è un insieme di fatti congiunti che riguardano la parte ambientale, quindi con le risorse, gli impatti sull'ambiente, la parte economica, la parte sociale. Quindi la sostenibilità è veramente una complessità indispensabile. Infatti, tanto per richiamare ancora una volta gli astronauti, come diceva un'astronauta dell'Apollo 13 nel 70, Houston, abbiamo un problema. Perché basta pensare alle dichiarazioni roboanti dei nostri politici del settore. Viene molto facile pensare a quanto diceva il Capone, cioè Robert De Niro, nel film Gli Intoccabili. Verrebbe da dire solo chiacchiere e distintivo. Purtroppo. Perché sia l'oceano che noi abbiamo assoluto bisogno di sostenibilità. E qualcuno si chiede ancora perché. Basta guardare questa diapositiva per rendersi conto di quanto sia importante investire nella transizione verso delle pesche sostenibili. Quanti miliardi di persone dipendano dalla sostenibilità nel settore della pesca? Quanti ne dipendano in modo diretto? Quanto ne dipenda anche il prodotto interno lordo? Quanto ne dipenda il mercato? Quindi è qualcosa che è di un'importanza strategica fondamentale per la gestione del pianeta. Ma ce ne dimentichiamo spesso. E non possiamo dimenticare inoltre come trattiamo l'oceano. Perché verso la fine dell'Ottocento, quando si è iniziata a sviluppare l'industria petrolifera, come sottoprodotto abbiamo iniziato a produrre le plastiche. Erano plastiche ancora semplici. Però all'inizio del Novecento abbiamo prodotto la bacchelite, una plastica solida e rigida. Si facevano all'epoca una quantità di cose, dagli interruttori elettrici ai telefoni. E la troviamo ancora sott'acqua, frammista alla ghiaia, dopo oltre un secolo. Nel 1935 si iniziò a produrre il nylon, che viene ancora prodotto e comunemente utilizzato. Le sue fibre sono diffuse in tutto l'oceano. Durante la Seconda Guerra Mondiale la produzione di plastica aumentò del 300%. E dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò a crescere in modo esponenziale con lo sviluppo dell'industria petrolifera del dopoguerra. Attualmente si stima che almeno 8 milioni di tonnellate di plastiche raggiungano gli oceani ogni anno. Sia direttamente sversate in acqua di mare, sia attraverso quello che apportano i fiumi. È una quantità enorme, di cui non ci si rende conto. Si stava iniziando ad adottare misure per limitare le plastiche monouso. che erano state fortemente regolate in un piano di rapidissima abolizione. Poi la pandemia ha fatto immediatamente dimenticare i buoni propositi. E queste immagini ce lo dicono chiaramente, purtroppo. Ne parlano tutti, però gli stati fanno pochissimo. Anche perché, essendo tutti responsabili, compresi quelli che sono lontani dallo scena, non ne vogliono parlare. Per far parlare del problema in ambito internazionale occorreva un'idea pratica e geniale. E così dal 2013 esiste un vero e proprio stato della plastica oceanica, il Garbage Patch State, riconosciuto ufficialmente dall'UNESCO. Questo stato formale permette di poter porre il problema nelle varie riunioni dell'ONU e dell'UNESCO, essendo il Garbage Patch State un osservatore ufficiale, cercando di sensibilizzare gli stati e di promuovere soluzioni a vario termine. Lo Stato, quando è stato creato, era secondo alla Russia per estensione territoriale. Perché nel 2013 aveva una superficie di quasi 16 milioni di chilometri quadrati. Mentre ora, con gli apporti che abbiamo detto ogni anno, è lo stato più grande del pianeta. Però non riusciamo ancora a valutarlo bene. Questo è il Garbage Patch State. È uno stato diffuso, perché è in tutti gli oceani. dato da tutte le aggregazioni mobili, delle plastiche che galleggiano, si aggregano e si disperdono nell'oceano mondiale e nei vari oceani come noi li distinguiamo. Infatti, alcuni lo chiamano lo stato lontano. È quello che è via negli oceani. Nessuno riesce a vederlo bene. È presieduto dall'architetto Maria Cristina Financi. È un'artista di fama internazionale, è un grande ufficiale della Repubblica Italiana. È una persona di grandi capacità comunicative, che fa installazioni gigantesche laddove si tengono riunioni internazionali o dove ci sono luoghi che sono visibili da molta gente. è un piccolo governo. Io sono il ministro del mare di questo piccolo governo. E forse questo è l'unico governo al mondo che abbia un preciso obiettivo. Scomparire. Però è un obiettivo difficile e di lungo periodo. Ma abbiamo regalato all'oceano tantissimi altri elementi indesiderati. Tantissimi. Perché le plastiche sono un tema di moda, ne parlano tutti, come la sostenibilità. Sono un problema serissimo, però non sono il pericolo peggiore per l'oceano. Nell'ultimo secolo abbiamo regalato all'oceano sostanze che dureranno nei secoli e che contaminano gravemente le acque e gli organismi che le abitano. Qual è il problema? Sono sostanze non visibili. Sono i contaminanti persistenti, cioè sostanze bioscide a molecola lunga, quali di DT, PCB e altre, tutte mutagene e cancerogene, che la natura non riesce sinora né a spezzare né a decomporre. La loro permanenza in natura attualmente è a tempi indefiniti, proprio perché non sappiamo quando e se la natura sarà in grado di decomporre. Il problema principale, a parte l'avvelenamento progressivo delle acque, è che danno luogo ad un fenomeno che si chiama bioaccumulo. Cioè queste sostanze si accumulano nei corpi dei viventi. Dovinate chi è l'ultimo della catena. Siamo noi. Infatti se ci analizzassero per bene, probabilmente un cannibale ci dichiarerebbe non adatti al consumo umano, perché siamo contaminati anche noi. E lo vediamo anche con l'aumento dei casi di tumore, un aumento esponenziale registrato negli ultimi decenni. E in più ci sono degli altri tipi di problemi che noi altri diamo alla natura in modo assolutamente sconsiderato. Abbiamo permesso che gli elementi radioattivi conseguenti alle esplosioni atomiche in Giappone, alle isole Marshall, in Polinesia francese, o alle perdite degli impianti nucleari finissero nell'oceano. Forse si ha poco l'idea dei tempi necessari al dimezzamento delle cariche radioattive nei vari sotopi in mare. Parliamo di dimezzamento. 8 giorni per lo iodio 131, più di 12 anni per il trizio, 30 anni per il cesio 137 e lo stronzio 90, 24.100 anni per il plutonio 239, 710 milioni di anni per l'uranio 235, 4,5 miliardi di anni per l'uranio 238. Sono dei tempi inimmaginabili. E ora stiamo tentando di regalare all'oceano quasi 1.300.000 tonnellate di acqua radioattiva della centrale di Fukushima, contaminata da trizio, un regalo che si protrerà per almeno 40-50 anni nell'oceano. Poi ce ne sono altri a cui non si era pensato. Nel 1953, Jacques-Yves Cousteau e Frédéric Dumas pubblicarono un libro che si intitolava Il mondo del silenzio. Fu un successo editoriale all'epoca, perché era il primo sguardo importante sul mondo subacqueo, corroborato anche da tante immagini. Perché entrambi pensavano che il mare fosse il regno del silenzio. Però era un errore formidabile. Ed è strano che l'abbiano fatto, perché sott'acqua loro dovevano sentire qualcosa, tanti suoni. Però l'uomo introdusse dei suoni artificiali negli oceani. Perché sin dall'introduzione del motore nella navigazione e molto prima con la costruzione dei porti, l'uomo aveva introdotto i rumori artificiali nel mare. Le guerre, poi sonare e altre tecnologie riempirono l'oceano di rumore. Però man mano si scoprì come le varie specie marine avessero ovviamente le capacità e la necessità per comunicare tra loro, anche a grandissime distanze. E solo da un paio di decenni si è iniziato a valutare questi impatti, almeno per mitigarli e non interferire troppo con la vita marina. È accaduto per esempio con il sonar militare a bassa frequenza, dove è occorso un decennio di studi per arrivare ad un sistema di mitigazione dell'impatto di questo strumento. Non ci si rende conto di quel che facciamo tante volte in mare. Però malgrado le tantissime idiozie dell'uomo, l'oceano ci dà ancora tantissimo. Le sue acque permettono ai pesci e a tantissimi altri organismi marini di muoversi da una parte all'altra dell'oceano, assicurando la vita nel mare e cibo per gli umani. È la più grande via di transito in assoluto per merce e passaggeri. I suoi fondali ci danno metalli rari, utili per la tecnologia, ma tante volte vengono estratti senza curarci molto degli impatti. Per esempio, sempre nell'isola di Tonga, un'estrazione di metalli rari che vengono usati per i telefonini ha causato un abbassamento del 75% delle risorse della pesca, proprio perché non era stato valutato bene l'impatto di quell'estrazione. I moti delle sue correnti potrebbero darci tanta energia, ma la nostra tecnologia è ancora insufficiente e dobbiamo comprendere meglio gli impatti sui complessi ecosistemi oceanici e sulle grandi rotte migratorie marine. E lo stesso vale anche per l'energia eolica. Valutare gli impatti dei grandi campi eolici marini, soprattutto laddove ci sono fondali complessi, e lascia ancora moltissimi dubbi sugli effetti di questi parchi eolici per gli abitanti del mare. Ci sono approcci semplificati che dicono ah beh, tanto noi lavoriamo fuori dall'acqua. Non è vero, si lavora anche dentro l'acqua perché gli impianti sono basati in acqua. E molto spesso è veramente l'approccio semplicistico a creare problemi. Noi dobbiamo soprattutto capire un punto fondamentale. Ogni attività umana ha un impatto sull'oceano, diretto o indiretto. Dobbiamo sempre valutare bene queste attività. E non solo i politici, gli amministratori hanno questa responsabilità. Loro ce l'hanno in modo primario perché sono quelli che devono farle norme e farle rispettare. Però noi, come singoli cittadini e come consumatori, abbiamo un ruolo veramente importante perché noi con le nostre scelte possiamo condizionare tutto. È sempre una sfida. E l'ONU ci ha posto per il prossimo decennio una serie di obiettivi molto complessi, tutti collegati tra di loro. Dobbiamo sempre considerarli questi obiettivi perché l'obiettivo finale è avere un approccio molto più sostenibile al pianeta. Ci dobbiamo pensare. E come dice la grandissima oceanografa Sylvia Ayer, che è anche un'amica, senza acqua non c'è vita, non c'è il blu e non c'è il verde. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.